Ragazze, quello sarà il mio colpo grosso. Ho lavorato così duramente negli ultimi 15 anni che mi merito una vacanza e un po' di riposo. Fatico e poi non dormo mai per affrontare i sogni miei. Ma perché? Ma nonostante sia così, la ricompensa è ancora qui. Ma con te? Sogno chi mi rapirà, un uomo che mi manderà. Non soffrerò nemmeno un po' così la vita mi godrò. Soldi, 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 benedetto, chi mi manderà. Soldi, 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 si è allontato, chi mi manderà. Ah, quante cose farà. Sono un uomo ricco che mi manderà. Che mi manderà. Come potrei incontrarlo mai? Non credo che ci riuscirei. Ma perché? E se anche un uomo arriverà, proprio di me si accorgerà. Forse no. Restare qui, non serve ci va. All'anzia, gazzonaco. Giocando tutto il casino, la vita mia risolverò. Soldi, 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 benedetto, chi mi manderà. Soldi, 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 si è allontato, chi mi manderà. Ah, quante cose farà. Sono un uomo ricco che mi manderà. Soldi, 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 benedetto, chi mi manderà. Soldi, 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 si è allontato, chi mi manderà. Ah, quante cose farà. Sono un uomo ricco che mi manderà. Che mi manderà. A presto. Grazie.